poche chiacchiere questa pasta al tonno è squisita dai facciamola insieme per prima cosa taglio le zucchine poi taglio i pomodorini la cipolla poi metto l'olio in padella aggiungo le acciughe sott'olio qualche cappero sotto sale poi metto le zucchine e a fiamma alta faccio cuocere per 4-5 minuti a questo punto aggiungo le cipolle e quando cipolle e zucchine saranno dorate ne metto una metà nel bicchiere del mini pimer metto un po d'acqua bollente frullo bene bene e metto da parte a questo punto unisco i pomodorini e le zucchine non frullate regolo di sale copro e faccio cuocere 10-12 minuti a fiamma bassa nel frattempo salo l'acqua e metto a cuocere la pasta poi un minuto prima della fine della cottura la trasferisco in padella aggiungo la crema di zucchine ed un po d'acqua di cottura e mescolando faccio finire di cuocere quando la pasta sarà al dente spengo la fiamma e metto il tonno un po di peperoncino do un'ultima mescolata e guardate qua mamma mia mamma mia